I am the one, don't wait, your son, don't need a gun to give respect up on the street Under the sun, the bastard sun, we'll pop the clock to feed himself and family Non dovevo farlo, no Buon salve a tutti ragazzi, sono Volta e benvenuti in questo nuovo video Damn Ci troviamo nella condizione in cui ormai il dubbing è ovunque Quindi naturalmente vi farò un piccolo tutorial su come si fa la dub Semplicemente usando la mod del menu Perché infatti è un settore che porta l'animazione e ti riesce a creare questo tipo di animazione che ti fa fare il dubbing Semplicemente noi andando, premendo naturalmente F8 per aprire il menu Andremo su player option e ora andiamo su animation E dovremo andare su SWAT moments Noi naturalmente dovremo premere due tasti per creare infatti la combinazione che ci permetterà di fare infatti la dub Se noi premiamo really point e poi back, noi riusciremo infatti a fare la dub Come in questo modo Damn Avete capito il senso infatti però comunque l'animazione rimane in loop quindi poi dovrete toglierla Ma alla fine è bellissimo Naturalmente direte ok ma è semplice da fare Si è semplice ma applicabile ad animali interessanti come possono essere cinghiali e animali del genere Andiamo su model changer e andiamo su i favorites non ci sono animals Ci siamo trasformati in un cane australiano Non cazzo è Va bene poi abbiamo un cinghiale Abbiamo un gatto Ok proviamo con questo dai Questo è il cane Molto molto carino eh Proviamo a fare la dub con questo animale ragazzi Mi rendete conto fare la dub con questi animali? Pazzesco SWAT moments Pronto? Oh mio dio Damn Non dovevo andare avanti così però Va bene No cioè sta facendo di tutto tranne la dub Ma è bello che è felicissimo sto cane Guarda ha il ritratto della salute scritto in faccia proprio Ragazzi sta facendo la dub con la coda Ah no è una zampa Ok perfetto La coda dove? Ah ok la vedo la vedo Oh che cazzo è? Ma è traumatizzante vedere un animale fare così? Ve lo immaginate? Oddio sarebbe veramente tremendo Ok proviamo a modificarlo Andiamo su di nuovo gli animali naturalmente E proviamo il cinghiale Naturalmente dovrebbe dare un'idea Dai proviamolo Proviamo Vai Oh mio dio Damn Ma perché così? Oddio gli si è spezzato la zampa Ragà la zampa La testa tra l'altro Oddio Praticamente la mod della tab Riesce diciamo a distruggere veramente Il modello poligonale di qualsiasi animale Come infatti questo povero mostro Cosa cazzo è? Questo fa veramente paura rispetto al cane Il cane era molto più carino Questo che è un mostro Minchia quanto è brutto sto animale ragazzi A me mi fa un po' schifo vi giuro Ok Ora proviamo col gatto Vediamo un po' come può avvenire Dai spero bene Ma che ma damn bitch Damn Ma che cazzo? Un gatto che fa la dab ragazzi Oddio ma mi si è spezzato l'osso del collo raga Oh Gesù La scimmia dovrebbe venire bene Perché tanto la scimmia alla fine è una scimmia Quindi dovrebbe fare la dab normalissima Proviamo Ok proviamo la dab Questo riesce a farla bene Perfetto Ah la scimmia è il migliore amico dell'uovo Ok però gli animali sono semplici Bisogna provare con qualcosa di veramente complicato Questo voglio No questo sono curiosissimo di vedere cosa fa Dio quanto cazzo è brutto sto animale Pronti? Oh damn Ragazzi Sembra Oddio Quanto cazzo c'ha lungo quell'ala Raga Gigantesca sta la Porca miseria Mi ricorda tantissimo un video che ho visto Ma la mucca raga cosa può fare? Vediamo Oh mio dio Oddio Oddio Gli ho arregliato il corpo Oh mio dio È tremendo Oddio Questa è la dab per le mucche ragazzi È bruttissimo Oddio ma c'ho un colo da dinosauro raga Madonna è brutta sta mucca Ma il coiote no il coiote è troppo facile Il corvo come può farla? Oddio ma il corvo si può volare Che figata No ferma è a terra è a terra figlio di puttana Sono morto con il corvo Ma i corvi possono andare all'ospedale? Cioè vengono presi? È morto da solo Non gli ho fatto niente Però la dab l'ha fatta Ok proviamo a vedere cosa fa Damn Minchia anche lui è uguale Stessa cosa Stesso modello poligonale dell'altro piccione di prima Madonna che roba però Porca miseria Com'è possibile morire sempre con questo cazzo di animale di merda? Come si atterra Qualcuno me lo spieghi Oh no cazzo Spano un delfino Cosa? Oh sei contento delfino di merda Guarda come è contento Guarda come è contento sto figlio di puttana Bastardo stronzo Pronti? 3, 2, 1 Delfino dub Orca puttana che roba è Questa è la dub? Per i delfini? Cioè rimanere senza testa? Oggi insomma è inquietantissimo Ok la dub per i delfini è la cosa più brutta del mondo probabilmente Non ho mai visto niente di così brutto Ma per un pesce? Minchia per un pesce Questo pesce gigantesco è più grande del delfino Ragazzi questo qui è il delfino eh Questo qui è il pesce Questo pesce secondo me come animazione avrà quella di prima probabilmente Però sono curioso di vedere com'è Pronti? 3, 2, 1 Dub Via Oh mio dio Che cazzo di dub è? Ragazzi con le pinne sta facendo la dub Non so se avete notato Vedete? Eh questo è cattivo però eh Proviamo 3, 2, 1 Vai Dub Oh mio dio Pam No ma che cazzo è? Questa è la dub? Cioè inclinare la testa così E questo è il dub eh Ragazzi secondo lo squalo martello No ho ucciso l'aquila per sbaglio Cazzo Oh cazzo No no Porca puttana Oddio Il pollo ragazzi non ho dato nessuna animazione Però si è già sminchiato Quindi abbiamo già capito come può andare a finire sto pollo Guardate Non ci provo nemmeno a fargli fare la dub a sto cazzo di pollo Cosa cazzo ho spawnato? Ok raga Una balena può fare la dub Ok Pronti ragazzi? 3, 2, 1 E vai Madonna ancora sta dub del delfino Cazzo Anche loro lo fanno così uguale Oh un aschi Una schivezza Comunque Proviamo veramente a vedere come funziona con un aschi invece Dovrebbe essere Oh mio dio Questa è la dub Molto bella Molto bella Me lo sarei immaginato alla fine dai Ecco uguale uguale ragazzi Porca puttana Però sembra incazzato E' l'aschi piuttosto Oddio si Volevo almeno una volta dovevo farlo per forza Oddio questo qua è l'animale più brutto della storia Oddio il cane di più dei pai Proviamo a fare la dub col cane di più dei pai Madonna quanto è bello col muso tutto schiacciato Cazzo Sembrata abbiano tirato un cazzotto di mondo Se lo sei ricordato per tutta la vita Vai cazzo dub Porca puttana Ma che cazzo ho messo Che animale è quello Oddio che animale di merda è quello Ah ok ok ho capito Madonna mi muore sempre Fa schifo sto animale Fa schifo Ma ragazzi io naturalmente vi ho fatto vedere Una mod già incorporata nel menu Però in realtà ci sono altre mod che fanno animazioni Proprio della dub Questa è una delle più semplici che potete fare Infatti senza Infatti aggiungere mod delle animazioni Cioè sto ancora cercando di scoprire Com'è che funziona il menu Perché veramente contiene tantissime cose Che neanche sappiamo Infatti alcune volte mi sorprendo di alcune cose Che riesco a trovare stranamente Così a caso Cercando così tra i file di gioco Infatti questo trainer Non capisco come mai riesco a trovare Sempre così tante cose Però comunque alla fine Ripengo sempre compiaciuto Come infatti potete vedere questo ad esempio Ci sono mod assurde veramente Io non riesco a crederci Però guardate È una cosa bellissima Guardate che figata Vabbè Oh Gesù Ragazzi stanno cercando di spararmi Però che si fa sono in cielo Guardate Vabbè Io l'avevo già mostrato a stamot Lol Vabbè io l'avevo già mostrato a stamot Però la gente diciamo Di solito non è che vedete naturalmente tutti i video Quindi magari non ve l'ho fatta vedere A me fa sempre ridere vedere stappare Che cazzo è Sembra quell'animale vicido Che mi si è presentato prima Ovvero Come cazzo si chiama Quell'animale marino sapete Non mi ricordo più Ormai è storia Non importa Ok ragazzi Se qualcuno conosce magari il minio E saprebbe spiegarmi magari qualche cosina in più Mi farebbe anche piacere Però perché mi fa piacere naturalmente Conoscere altre cose del minio Nonostante C'è nel caso Ce l'avete Scrivetelo nei commenti Per il resto Spero che la mod vi sia piaciuta Vi invito a mettere mi piace E iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Ah naturalmente il link Si trova in descrizione Della pagina facebook Instagram e tutto Perché naturalmente Non è che sono così a caso Quindi ragazzi se volete andare a vedere Il link è in descrizione Ok ragazzi Dopo aver estinto 10.000 specie Cercando di fare una cazzo di dub Veramente stava assurda Però comunque ci abbiamo provato E ci siamo riusciti Più o meno Comunque alcuni sono morti Tentando di provarci Però dai Ce l'abbiamo fatta Per il resto ragazzi Il video si può concludere Benissimo qui E comunque con le canzoni Stile Repettaro Che ha infatti Sempre Franklin In casa Possiamo dire che una dub Se la può anche permettere Quindi ragazzi Il video di oggi finisce qui E noi ci vediamo in un prossimo video Un gusto da Wolf E bello a tutti Ciao